massimo in grande forma stasera bello bello sono contento di come giocano proprio in grande forma si è fatto pochi allenamenti però hanno imparato hanno imparato e mettono in pratica quello che gli ho detto questa è la cosa più importante bene grazie il livello tecnico ovviamente di vari è grosso massimo al matura ha dei gelatori fortissimi veramente però non ce la mettiamo una bella partita facciamo il nostro dovere dai grazie grazie forza lezione copri 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 brava mela